Benvenuti ai bagni Hilton, un angolo di paradiso con un mare cristallino, un ambiente piacevole dove trascorrere la tua vacanza all'insegna dello star bene. La nostra zona VIP si trova sul molo, per garantire ai nostri ospiti riservatezza e tranquillità. Inizia la tua giornata con una deliziosa colazione. Puoi pranzare e cenare direttamente affacciato sul mare. La nostra specialità è il menù di pesce, ma non mancano le sliziose grigliate di carne. Per i più giovani, aperitivi a tema con DJ Seth. Bagni Hilton, Piazzale e Fratelli Rosselli 1, Noli, Savona.